in C++. Questo primo programma si occuperà della lettura e della stampa di una matrice quadrata dove il numero di righe e di colonne verrà stabilito da una costante che dichiareremo precisamente using namespace std. Ecco qui inizializziamo una costante, cioè dichiariamo ed inizializziamo una costante che chiamiamo quindi const di tipo intero, il nome lo chiamiamo n e fessiamo uguale 3, così sarà una matrice 3x3. Fatto questo inseriamo i prototipi delle procedure, delle funzioni che ci servono. Dunque io direi che per la lettura e la stampa ci bastano due procedure. Void, diamo nome lettura, cui dopo gli passerei, no, lo passiamo già adesso, quindi un array di tipo intero, questo array si chiamerà matrice, tra le quadre mettiamo n, che sarà 3xn, quindi 3 righe per 3 colonne. Stessa cosa facciamo per stampa, void stampa, possiamo fare addirittura copia e incolla da qui, per risparmiare ok. A questo punto creiamo il nostro main, nel main sempre il return 0, dichiariamo la array che ci serve, abbiamo detto che è di tipo intero, diciamo che potremmo chiamarle con qualsiasi numero, però mettiamo matrice, di n per n, scusate, non inizializziamo niente, chiamiamo le procedure lettura, a quelli passiamo matrice e stampa, a quelli passiamo anche matrice, punto e virgola. A questo punto non ci resta che estendere le nostre procedure. sempre, return opzionale, però mettiamo sempre, return opzionale. Dunque, quello che farà la lettura è appunto acquisire i dati dell'intera matrice. Per fare questo, poiché è un array bidirezionale, dobbiamo usare due cicli for uno dentro l'altro. Iniziamo a scrivere la struttura generale, quindi for. Ci servono adesso i due contatori, quindi int lo chiamiamo i e lo inizializziamo a 0. Qui invece dichiariamo un contatore che si può essere seguito finché i è minore di n, dopodiché i verrà incrementata, i più più. qui invece il ciclo verrà seguito finché j è minore di n, punto e virgola, j verrà poi incrementata. Allora stampiamo a schermo cosa deve fare l'utente. Inserisci il valore di C. Dunque, in matematica si indica una matrice generalmente con l'A e al pedice e si mette, tra parentesi tonta, la posizione della colonna e la posizione della riga. Dunque, la posizione della colonna sarà questa. La posizione della riga si mette prima, poi la posizione in colonna. La posizione della riga è questa qui, la posizione della colonna è questa qui. Poi che non possiamo mettere come pedice, possiamo semplicemente A, aperta parentesi, 2, abbiamo detto che la posizione della riga è la I, quindi I, 2, mettiamo virgola spazio, anzi, senza spazio voglio dire, dopodichè mettiamo la G, che indica la posizione in colonna e chiudiamo la parentesi, così. Mettiamo uno spazio, punta e virgola, cin, 2, dunque, cin, cin, matrice, matrice, in posizione, i, j, punto e virgola. Questo ciclo verrà effettuato, se n è uguale a 3, 3 volte questo, per 3 volte, quindi 9 volte. Facciamo salva, salva come, lo chiamiamo matrix.cpp, lo salviamo sulla scrivania, salva. Dobbiamo provare ad eseguire il programma, ovviamente, salva matrix.cpp, così ci assicuriamo che non ci sono errori, punto slash a punto out, ecco, ci dice, inserire il valore di a, a, cioè a, 0, 0, vabbè, mettiamo 0, 1, 22, 3, meno qua, 2, 4, qui c'è, inserendo il meno abbiamo creato un errore, purtroppo quest'errore però non può essere... al momento non ci interessa quest'errore, non ne dobbiamo fare basta. Dunque, passiamo alla stampa. Per la stampa, possiamo benissimo copiare il for, cioè i due cicli. facciamo copiare, e facciamo incollo. Però, anziché fare cin, faremo cout, 1, 2, 1, 2. Per andare a capo, poi, facciamo un cout, handle. Questo qui andrà a capo ad ogni riga. lo testiamo subito. 1, 2, meno 4, 4, 0, 2, meno 1, e 1. No, c'è l'ultimo valore. Ok, questi sono i valori che sono stati fatti. Per dargli però una tabulazione, cioè gli diamo una tabulazione per essere spaziati, diciamo così, per virgolette, mettiamo slash t. Con la tabulazione sarà molto più evidente il risultato. Seguiamo, ovviamente l'ho già salvato. 1, 2, 3, 4, 5, sì, 7, 0, meno 1. Ecco qui. È molto più chiara con la tabulazione.